Prende corpo giorno dopo giorno l'idea di Dario Nardella di rilanciare il Partito Democratico, o quello che sarà, dopo la debacola elettorale. L'annunciato congresso per le prossime settimane prenderà il via il prossimo 6 ottobre. Il passo indietro di Enrico Letta apre la strada alle più svariate ipotesi. Il sindaco di Firenze non si nasconde. Se ci sarà bisogno sarà della partita, ribadisce e al tempo stesso testa la sua tela di rapporti e posizionamenti, a cominciare dalla Giunta, che avrà bisogno di un nuovo aggiustamento dopo l'elezione di Federico Gianassi alla Camera. Italia Viva, forte del risultato a due cifre ottenuto in città, rivendica maggior spazio anche e soprattutto in vista della scelta del candidato a succedere proprio a Nardella nel 2024. La rete del sindaco però arriva lontano, a Bruxelles in particolare, dove ha partecipato alla riunione della Commissione Cittadinanza Governance Affari Istituzionali ed esterni del Comitato Europeo delle Regioni, rilanciando l'impegno delle città per la ricostruzione dell'Ucraina, sottolineando l'importanza del gemellaggio di Firenze con la capitale, Kiev. Firenze ha uno storico rapporto con la capitale l'Ucraina, con Kiev. Dal 1969 abbiamo un gemellaggio che è cresciuto nel tempo non solo sui temi culturali ma anche economici, sociali. Durante la guerra questo rapporto si è rafforzato ulteriormente. Firenze ha contribuito al supporto della popolazione di Kiev con aiuti economici che sono stati raccolti dalla solidarietà dei privati, dei cittadini e delle aziende. Inoltre, essendo Firenze anche una città di pace, che ha ospitato pochi mesi fa il forum per la pace nel Mediterraneo con 60 sindaci da tutta l'area del Mediterraneo, appunto è una vocazione che ci spinge.